noi siamo sempre tanto che il mondo tutto che si ferma noi andiamo avanti con i nostri cappelli perché la donna ama essere splendente è più importante avere i capelli svegli che un bel vestito perché l'immagine la prima cosa che uno guarda sono i capelli ok allora la signora è venuta qua per fare il suo trattamento sa piacere senza impegno come lo vede come lo senti che per la sua esperienza di qua di come ci ha trovato un altro capello corposo usente quindi è una garanzia un detto miglioramento sì il consiglio che ti ho detto perché la signora è venuta qui che voleva fare una cheratina ma dato che il capello era molto asciutto purtroppo di colori aggressivi io mi sono sentita dato che sono una specialista del colore ma sono anche una specialista della cura del cappello di riportarmi la stella del cappello gli ho fatto dei trattamenti step by step e questi trattamenti vanno ristrutturato il cappello ma sembra che hai fatto il colore è vero ti avevo anche consigliato il taglio mi hai detto di no però nonostante quello sono stupendi nonostante tu è bello sono stupendi sono contenta che si sia trovata bene tornerò sicuramente io sono qua se tu mantieni questo tipo di trattamenti perché questi trattamenti qua vanno fatti costantemente perché una volta fatti se uno si impegna a fare con la costanza il capello rinasce se uno lo fa una poi ogni tanto non può pretendere il miracolo perché tutti i prodotti sono buoni ma vanno fatti con la costanza un po' di pazienza vedrai che il capello prima di questa estate hai dei capelli bellissimi si vede già dal primo trattamento non hai neanche le doppie ducche, le pelle incolpate, non hai bisogno niente di tagliare grazie mille ci mancherebbe siamo qua